Ho trovato il partito in blu da bombina, questo è facile. Ho una rampa. Coraggiosa. Questo è il tuo campione. Datevi troppo, siamo qui per divertirci. Venite a Casa de Octane per la servessa. Dovremmo spostarci laggiù, miei gari. Quando mi vedrete sarà troppo tardi, sarete già morti. Grazie a tutti. Prima vittima. Termite lanciata. Qualchera ha mollito e mi sta sparando. Mi ha traccazzo. Sono a terra. Inizio controlla rovescia. Inizio controllo. Continua. Sì, sì, sì. Forza, chiediamoci un po' su. Già l'hotepista qua giù. Qui c'è uno scudo Evo, livello 2. C'è un nemico nei paraggi. Che ne dite di tirarci un po' su? Mi stanno sparando. Sono a terra. Ah, manco ci provo. Ma se me ne fa un culo. Testa di cazzo. Si lanciano giù. Muoiono e quittano. Così. Ah, manco ci provo. Non c'è mai un po' che voglio. Toglia d' IDE. la sicurezza prima di tutto ma non nell'arena qui regna il caos ho visto di tutto non mi sorprende oggi sarà il nostro giorno la nostra battaglia questo è il tuo campione verserò fiumi di sangue e onorerò il padre di tutti gli dei arriva a 10 e mezza 11 vorrei che tutti voi poteste combattere anche domani ma purtroppo sarete morti sono la cacciatrice mandata dagli dei dovremmo atterrare qui capito caduta nel vuoto che fai di spada l'unico modo per entrare a usare un pompa è usare un pompa qui c'è uno solo M livello 2 potrebbe farmi comodo siamo già dentro prima 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 il campione è stato eliminato e così il campione è stato sposestato sempre più in alto se ne avete bisogno qui c'è un caricatore energetico livello 2 ne ho vieto Grazie. Sto controllando l'aria. Contatto. Nemico individuato. Ricarico. Sto controllando l'aria. Dai, fatelo voi. Qui c'è un accelerante alto. Qui c'è un volt. Sto controllando l'aria. Sto controllando l'aria. Sto controllando l'aria. Ho bisogno. signora attenzione capsula assistenza in arrivo capsula assistenza in arrivo all'abita bassa andiamo da qui qui c'è uno stabilizzatore canna livello 2 procede 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 non bene non male seguite la mappa poi vedremo sì sì sto bene bene con queste partite qua poi e come va tutta posta tutta posta qui c'è un opap ignora qui c'è un opap perfora cranio qui c'è un calcio scan qui c'è un opap perfora cranio trasmettitore di rientro portatile individuato ah ma non so se si continua adesso vediamo quando trovi la brutta gente ti passare a giocare un bel mastiff un bel mastiff un bel mastiff un nemico proprio qui mastiff non esiste in questo gioco mi stanno sparando mi stanno sparando ma buono molto buono eh si purtroppo adesso lo portiamo a casa un attimo mi sto curando contatto con nemico ricarico sto controllando i dintorni no merda merda questo si sta curando sto pensando male è quittato amica grazie amica nooo ma che ma dai 8000 squadra c'è la prima gana libera eh vabbè ci sta normale adesso proviamo le classi non c'è molti giorni oh brutto croc bei baffetti ecca la non siamo giocati con il prossimo e quindi io vado di loba scelto loba scelto loba diudecchino posso vincere con un occhio chiuso o con il branco gli occhi chiusi diavolo non ho nemmeno bisogno di farmi vedere portano tutti allo stesso posto ah si doi devo un po' di freight questo è il tuo campione preparati vengo a prenderti preparati vengo a prenderti sono la jump master non avere l'impianti ecco il jump master non è che possiamo attivare qui meno male che i miei amici e io non soffriamo di vertigini il finito del vento mi ha portato a vincere preparati controlliamo quella zona ma quanti frammento oh oh caduta nel vuoto sto controllando gli intorni adesso si che si ragiona andiamo mi servono munizioni energetiche ho individuato il prossimo anello seguite la mappa qui c'è un hop up qui c'è un g7 scout io qui c'è un r301 potrebbe farmi comodo potrebbe farmi comodo qui c'è un r301 qui c'è un ottica qui ci sono munizioni energetiche qui ci sono munizioni per cecchino andiamo da questa parte mi serve un ottica per un fucile d'assalto ho già risucchiato tutto qua qui c'è un caricatore leggero esteso livello 1 lancio la mia isca ragazzi sto controllando l'aria qui c'è un trasmettitore di rilevamento eh vabbè l'agente non sa cos'è un trasmettitore di rilevamento l'anello è lontano controllo controllerò attentamente quel punto mi serve un otturatore per shotgun qui c'è un casco livello 2 lasciate a me qui c'è un casco livello 2 no qui c'è un casco vado da sui uccelli nessuno è dentro primo penso che sia ora di fare la mia mossa immagino la mossa che farai qui c'è un otturatore per shotgun livello 3 ne ho bisogno otturatore mamma mia che è aggiornata oggi grazie ho individuato uno ok di nulla capito ritiro quello che ho detto invio unesca un attimo come faccio a sapere che non sono un attimo come faccio a sapere che non c'è un portale non c'era mai che c'è un portale lancio stella arc lancio stella arc granata termine lanciata padre di tutti gli dei concedimi la vista non ci sono abbastanza me in questo posto trappola nelle vicinanze donami la vista qualcuno è passato di qui mi sta facendo male? bam rimbambiti o qualcosa del genere un secondo mi sto curando andiamo lì qualcuno è passato di qui rimane il 50% ragazzi il campione è stato eliminato qui c'è un trasmettitore di rilevamento nemico vicino eccone uno rimbambiamo i vabbè nemico abbattuto che stavo cadendo c'è uno qui arriva l'imbroglione sto controllando l'area devo rimettermi in sesto qualcuno è passato di qui di recente qualcuno è passato di qui di recente capito ok andiamo da questa parte nemico individuato qualcuno è passato di qui di recente qualcuno è passato di qui di recente che figura di mordo devo ricaricare i miei studi mi ho individuato uno c'è il nuovo indecente c'è qualcosa da questa parte nuovo litero uccisioni e scontrolliamo quella zona qualcuno è passato di qui un nemico laggiù attenzione ne ho uno qui ma mia basta pingare madò sto controllando l'area versaglio individuato si praticamente è quello che ti fanno quando quando ti spottano un posto no eh solo che qua f*** che continuano a spammare sta cosa continuano a farlo che coglioni è l'ora dei cloni ah se c'è anche quello che porta sfortuna fuoco ricarico attenzione granata dai mi stanno colpendo dai nemico proprio qui il bersaglio è proprio di fronte a me ricarico la squadra è stata ambientata andiamo lì un secondo me sta volando il tricolo individuo qui c'è un consigno livello 4 attenzione l'area inizia siamo dentro l'area dai uno dei loro laggiù ricarica scudi in corso sono blotondo mi servono lezioni energetiche non ci sono abbastanza mei in questo posto date un'occhiata capsula assistenza in arrivo sto controllando l'area ricarica scudi in corso mamma mia oggi c'hanno il gurdine nel fuga donami la vista ah mi stanno colpendo oh no c'è un'altra squadra qui cloni per la fuga schierati dovremmo andare qui nemico laggiù mi stanno sparando ricarica scudi in corso ricarica scudi in corso alcuni di noi non sto controllando l'area sto ricaricando nemico proprio qui proprio di fronte a me ricarico 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 dovremmo andare qui invio un esca un attimo come faccio a sapere che non sono io un esca attenzione replicatore in arrivo replicatore in arrivo è l'ora dei cloni mi prego con l'esca ricarico ho eliminato un nemico ricarico pericolo muoviti ha battuto un nemico non sono sicura penso di essere sottotiro con l'inganno si ottiene tutto ce n'è una proprio qui mi spara anche da dietro ricarica scudi in corso non ci credo non ci credo mi spara davanti e dietro raga ricarico arriva l'imbroglione che ne dite di questa dire ha tutto sotto controllo mi spara davanti e dietro scuda non ci credo credi in te stesso cosa ho fatto non ho parole vabbè questi che hanno sparato tutto quello che hanno visto mi hanno giocato di merda di merda di merda di merda di merda L'assenza non è proprio una scienza esatta. Il destino sarà dalla nostra parte, guerrieri. Guerrieri. Con la mia artiglieria pesante non ne ho bisogno. Questo è il tuo campione. A Horizon non sfugge mai niente e in nessuno. Credi che con te sarà diverso? Seglierò la vostra posizione per la battaglia. Sono la Jopamaster! Non è il mio primo lancio, ma di solito vado nella direzione vostra. Siamo per l'assenza! Dovremmo andare qui. Non mi piace scaccare. Nemico individuato. Mamma mia. Mi fai fare un giro tu? Chiudo in base di liceo. Mi sento a tutta altra parte. siamo completamente dall'altra parte il classico andiamo da questa parte amici no mi hanno individuata quando sei triste girati su cargobop colpito vedo uno di quegli idioti sto controllando i vintori vedo uno di quegli idioti qui c'è uno scudo evo livello 2 attenzione chiusura anello tra un minuto 45 secondi e l'anello è lontano in marcia gente nemico individuato controlli qualcuno è passato di qui di recente sto controllando i vintori andiamo bersaglio avvistato ok mi servono degli scudi attenzione anello chiusura donami la vista qualcuno è stato qui mi serve mi serve un otturatore per shotgun e capsula assistenza in arrivo qualcuno è passato di qui a avrò il fuoco il sangio laggiù nelico laggiù vediamo di che pasta siate fatti e e Lasciate a me Grazie Ne va di fare un giro qui? Dovremmo andare qui Grazie Andiamo da questa parte amici Quando sei triste tirati su Vinga Potrebbe esserci qualcosa da questa parte C'è un trampolino Nelico da quella parte Donami la vista Nelico laggiù Si è dimenticato il disparo Mi servono munizioni pesanti Attenzione C'è un nuovo leader Nuovo leader Uccesioni Occhi a pelli Se ne avete bisogno qui c'è un caricatore energetico esteso Livello 3 Andiamo da questa parte Pericolo vicino Fuoco Versaglio l'intanto Pericolo vicino Andiamo da qui Scudo aciato qui Sto ricaricando Sto ricaricando Individuando Devo agire in fretta Lascio una stella arca Mamma mia Perché sempre un panino Perché Perché sempre un fottuto panino Perché 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 Ma hai salito o me l'ho Sto lanciando una stella arca Granata a frammentazione Sto controllo Faccio una pausa Devo dare un'assistenza Ricarico gli spi Attenzione Dolore in vivo Sto controllo Pericolo Attacco aereo vicino Cazzo sta facendo Fuoco Mi prendo qualche secondo Per ricaricare Questi ti scopano Via 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 Ricarico gli scudi Sto ricaricando gli scudi Chiusura Anello Tra un minuto L'anello è vicino L'anello è vicino Imboscata Ripeto Imboscata C'è un'altra squadra Sono sottotiro Adesso mi appunto Ripetere Ricarico Ricarico gli scudi Ricarico gli scudi Sto ricaricando gli scudi Siamo sotto attacco Sto controllando l'area Anello Usate la mappa come guida L'anello Nemico laggiù Sto ricaricando gli scudi Mi servono degli scudi Capsula assistenza in arrivo Capsula assistenza in arrivo Andate pure Attenzione Il campione è stato eliminato Sto controllando i trenturi Ricarico L'intera squadra è stata annientata Ottimo lavoro Andiamo da questa parte Imboscata Ripeto Imboscata C'è un'altra squadra Non ci credo Ma stai luttando Sono a terra Nemico Sul mio radar Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Più di scudi Ho solo 80 colpi Mi servono degli scudi Questo qua dovevo luttare Intanto che disparare Predizione degli dei Sto controllando l'aria Stai luttando Ho luttato tutto Ma che è Merda Un'altra squadra Per ricaricare gli scendini dai non c'è neanche uno scudo da cella due celle rimane metà delle squadre, la vittoria è mia va a vedere qua attenzione anello chiusura dentro l'anello, vincerò attenzione, capsula assistenza in arrivo aspetta mi facceranno delle capsule mi sembra perché forse c'è la famo oh bravo c'è la famo 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 non c'è la famo I miei nemici mi troveranno all'interno di questo anello. Donami la vista. Dai, vieni da me che ti frego la kill, vieni da me che ti inculo. Vieni da me che ti frego la kill. Vieni da me che ti frego la kill. Vieni da me che ti frego la kill. Eh, c'è ancora uno. Eh, che cazzo, dai! Bangalore è morta, quell'altra incoglionita si è fatta uccidere, chi rimane vivo? Io. Questo naturalmente grazie ai miei compagni. There was a problem. Sì, il problema è sto gioco. Ecco qual è il problema sto gioco, porco dio. Michia, qual è il problema, eh? Sì, qual è il problema? Trovano dalla gente che sape giocare, ho dei dubbi, ho dei seri dubbi, ho dei veramente seri dubbi. Ci sai fare, Michia. Ti merito un sacco di baciotti. Chami? Chami? Cosa faremo se sparisce My Sister? Oh, niente. Non mi avranno mai. Andiamo. Tutto. Non potete usare Bangalore, abbiamo chiuso questo. Go down? Allora uso Bangalore. E' un po' che non la uso. E' un po' che non la uso qualcuno. Niente di più rinfrescante del fiombo in una giornata calda. Sono venuta qui per far festa. Spacchiamo tutto. Sono venuta qui per far festa. Spaccamo tutto. Spaccassi tutto. Spaccassi tutto. Dai, inferno, spaccassi tutto. Spaccassi tutto. Ci guiderò alla vittoria. Sono pronta per la mia fine. Non ho paura. Preparatevi per la battaglia. Controlliamo quella vita. Guarda che bei missiloni che ho. No. Poi ci sono squadro alla noi? Boh. Io sto e rai. Sto staccheggiando qui per facilire la nostra locca Eh vabbè Round 1, inizio contro la Ration Nello Il prossimo anello non è vicino Attenzione, prima vittima Fuori il primo, ora sistemiamo anche gli altri Qui c'è un'Optica, distanza raccicinata, meglio di niente Qui c'è un alternator C'è un caricatore energetico esteso qui Ne ho bisogno Qui c'è un caricatore pesante esteso Livello 3 Lasciate a me Ignoralo Grazie Di nulla Mi servono muscoli pesanti Qui c'è un'Optica, medio raggio Lasciate a me Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 1 Donami la vista Qui c'è un'Opap, perfora cranio Qui c'è un'Optica, medio raggio Qui ci sono munizioni pesanti Potrebbe farmi poco Qui c'è uno scudo Evo, livello 2 Sorveglio il cielo Attenzione, chiusura anello tra un minuto Cazzo, armante pesanti che ho Non c'è un'arma decente Porca di Contatto con nemico Sto controllando l'area Sono lontani Ne vedo uno Versailles Nemico Sul mio radar Ritiro il drone Sono tornato Disconnessione dal drone Abbiamo compagnia laggiù Fuoco Riposizioniamoci qui Usate la mappa come guida L'anello si sta muovendo Sto controllando i dintorni Sto combattendo il nemico Come stai combattendo il nemico? Ma che cazzo fa? Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Ricarico Un altro paio d'occhi non guasterà Sto controllando i dintorni Capsula assistenza in arrivo Capsula assistenza in arrivo Un aiuto dagli dèi Riavvio in corso Nemico a terra Esco dal drone Sto tornando Ricarico Nemico individuato Sto controllando l'aria Andiamo da questa parte Granata frammentazione lanciata Granata terminata Attenzione Dolore in arrivo Nemico laggiù Attacco l'aria Attacco l'aria Guarda la mano Versaglio laggiù Non è toccato 3.000 sputti Stanno sparando Versaglio avvistato Stanno sparando Andiamo da questa parte Un attimo Sto ricaricando gli scudi Sto ritirando il drone Attenzione Andiamo da questa parte Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Hanno trovato Un nuovo leader uccisioni Padre di tutti gli dèi Concedimi la vista Mi servono degli scudi Ricarico gli scudi Mi servono degli scudi Prima sparano Poi mi servono degli scudi Questo trampolino Potrebbe tornarci utile Potrebbe esserci qualcosa Da questa parte Controlliamo quella zona Lascio la mia firma Vediamo se hanno il coraggio Di sfidarmi C'è una torre di lancio laggiù Qui c'è una siringa Per una cura rapida Qualcuno ha racconto Del bottino qui Non molto tempo fa Non c'è di che Questa è una big light Ha la sensazione Che dei nemici Siamo stati Controlliamo quest'area Non importa C'è un nemico laggiù Vivo e vegeto Sto controllando l'area Raggiù c'è un bello scudo blu E a me piace il blu Perché c'è il più Il rosso In questo gioco Strat face Strat face Io ce le ho E non te le do Le munizioni pesanti Se gli dei vorranno Troverò del bottino L'occhio che tutto vede Padre di tutti gli dei Cocchetti di amistà Dove cazzo vai Il traffico Il traffico Io l'ho visto adesso Come si chiama questo qua Il traffico Madonna L'ho visto adesso Come si chiama Ma è sempre questo Loro cantano vittoria E noi glielo suoniamo Qui c'è un ottimo Cecchino Rende l'arma più versatile Grazie Non c'è di più Sto controllando i vinturni Posto Sì Bastardo Questo inglese È un po' strano Illusion Andiamo da questa parte Laggiù c'è un trasmettitore Di rilevamento Dieci secondi Anello è vicino Ho individuato il prossimo anello Sicuro la mappa Usate la mappa come guida L'anello si sta augurando Padre di tutti i dei Concedimi la vista Qui c'è una cassa della morte Fortunerà un tuo amico Lo so Lo so Sami Lo so che è il nostro Ma se non è traino viola Non bruntai bene Mi serve un motturatore per shotgun Neva 8 Che palla Tutti con leva Cazzo Una volta che posso usare il mastic Non siamo tutti Non siamo tutti nell'anello Mi sono presa qualche secondo Per curarmi Replicatore in Enrico Replicatore in discesa Prendelo Ciao Cosa dici Niente si va di Mi sono presa qualche secondo Per curarmi Difenderò questa zona Dai nostri nemici Ricevuto Con te Sto controllando l'area Tengo gli occhi puntati su quel punto Mi cura Un altro paio d'occhi non guasterà Esco dal drone Sotto lì Raggiù 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 Sto controllando l'area Bersaglio Bersaglio Raggiù Bersaglio Bersaglio individuato Cazzo sta sparando sto hotels Cazzo sta sparando I la speedfire? no, non ho usato la speedfire il cecchino termico stavo pensando male qui andiamo da questa parte cosa? sto ritirando il drone c'è la chiave di una camera blindata qui l'occhio che tutto vede cazzo la speedfire da potrei anche usare ignorante oh, nient'à fa zio pantalone guarda il drone, sto tornando mi connetto al drone, copritemi le spalle donami la vista versaglio laggiù ricevuto, forte e chiaro mi prendo qualche secondo per ricaricare i liquidi stai saltando gli studi controlliamo quella zona qui camminava l'occhio cosa? no guarda il drone guarda il drone guarda il drone sto controllando l'aria WAP questa è si teletrasportata ma che cazzo lancio una gradata termite controllo qui stai facendo che stai scoperto qui allora mi hanno detto che puoi sparare con quell'arma guarda il drone un attimo sto ricaricando gli scopi da questa parte da questa parte andiamo andiamo Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 ... 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 Grazie. Capongo per gli anni 15, quindi 15 fa la mania, porca la mania, come si lo so. Cosa? Cosa? C'è proprio un bando, lo fia. Cosa? 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 Che carattere. Cosa? Fai la regia, telet external, mobilcio, social. Cosa? no qualora non è un problema non è vero non è vero niente io fermo tutto ciao a tutti è stato bello